Il biotestamento diventa legge, il Senato approva in via definitiva il provvedimento sul fine vita grazie alla maggioranza trasversale PD Sinistra e Movimento 5 Stelle intesa che ha retto anche nella trappola dei voti segreti dove sono stati respinti gli emendamenti più controversi e dibattuti come quello sull'idratazione e la nutrizione del malato terminale A nulla sono valsi gli interventi critici e la legge con l'accusa che apra le porte all'eutanasia e gli appelli a ripensarci lanciati dalle forze di centro oltre che dalla Lega e Forza Italia Con il via libera al biotestamento resta soltanto lo scoglio della manovra prima del ritorno alle urne per Quirinale, governo e partiti la data buona per il voto sarebbe quella del 4 marzo il 27 dicembre invece Mattarella dovrebbe sciogliere le camere il capo dello Stato non vuole logorare troppo il premier Gentiloni la pensa così anche Berlusconi e lo ha spiegato nel corso della presentazione del libro di Vespa Penso che la soluzione più corretta sarebbe quella di continuare con questo governo e di consentire un'altra campagna elettorale non brevissima Il sostegno di Berlusconi a Gentiloni scatena la reazione di Salvini che ha annunciato la rottura con il Cavaliere anche per il no di Forza Italia alla legge Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi Vedetelo a loro Grazie a tutti